Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museum. In questo episodio faremo il test video della lente Neewer Fisheye Ultra Wide che abbiamo acquistato per la nostra telecamera. Il costo è di 30€, però come sapete è una lente veramente a tutti gli effetti molto figa. Lo zoom si può utilizzare ma come vedete va fuori fuoco fino a un certo punto perché la lente appunto non permette lo zoom, essendo non una lente normale ma una lente con ottica che normalmente all'occhio umano risulta sfocata. Infatti questo perché appunto non permette fino a un certo tot di andare a fuoco. Quindi questo è il massimo consentito che è veramente pochissimo e poi questo è il minimo consentito. Come vedete la mia mano è molto nascosta ma riesce a prendere ben 180 gradi della nostra telecamera. Inoltre anche le foto che possiamo scattare con questa macchina fotografica più che altro con la videocamera sono veramente tante. Come vedete è una figata assolutamente da fare le riprese. Poi adesso io farò vari test proprio precisi dove andrò a provare di preciso anche come funziona. Inoltre c'è anche un'altra, una vite, una mini vite, credo di calibrazione. Però quella io non la andrò a toccare anche perché è già stata calibrata vedo. E niente, per il resto da Computer Museo è tutto. Grazie ancora al prossimo episodio. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!